Grazie Mattia! Buon posto il caldo di Shanghai, eh Mattia? Sì, sì, c'è un sacco di roba, in più. Non è che si mette giù? Come si mette giù? No, no, è meglio, è meglio, poi è anche più comodo. Per me, per me, per lo meno. Ascolta, vuoi andiamo a cena allora, stasera? Sì, 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 sì. Grazie.